4 gennaio tutti se lamentano da bustina porta frutta no a bustina porta frutta tutti se lamentano questa bustina e quando ho due centesimi che cazzo te lamenti dico io non compramo la frutta non compramo i citrioli non compramo l'insalata non compramo gli mortacci loro e voi comunque siete più deficienti di loro e ve lamentate per due centesimi e quando c'è stata lamentasse quando c'è stata lamentasse del gas aumentato la luce aumentata l'immondizia aumentata l'ansia lamenta nessuno pagate pagate pagamo 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 le guida che ci rompe il culo noi se lamentamo per queste cazzate qua due centesimi non compramo la frutta sembra capito il danno io lo faccio ma loro non compramo la frutta poi quando vanno a dire il dottore signora il suo figlio deve mangiare più frutta e verdura e allora che cazzo ordi no già la puttana